E' stato ritrovato a poche ore dal furto, a centinaia di chilometri di distanza dal magazzino del comune di Sansepolcro, che era stato completamente svuotato. Il furgone, un Fiat Ducato che i ladri hanno utilizzato per trasportare l'ingente bottino, è stato ritrovato davanti a un bar di caserta. Il colpo era stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì. La banda era prima entrata nel capannone, aveva caricato gli attrezzi, tagliaerba, motoseghe e decespugliatori sul mezzo, poi si era data alla fuga, ma prima aveva preso di mira anche la struttura adiacente, la sede locale di Sei Toscana, da dove aveva portato via centinaia di litri di gasolio, ingente dunque il bottino che potrebbe sfiorare 100.000 euro. Un danno veramente rilevante per quanto ci riguarda, uno dei più grossi furti mai effettuati alla nostra attrezzatura. Tra l'altro, oltre che il danno, c'è anche la beffa, perché i nostri operai sono veramente adesso anche sguarniti del materiale col quale devono operare quotidianamente. Ora ci stiamo già attrezzando per il riacquisto dei materiali più urgenti, delle attrezzature più urgenti e quindi ci stanno mettendo anche in difficoltà dal punto di vista operativo. Adesso il mezzo è stato ritrovato, è stato lo stesso titolare del Bar Campano a chiamare il Comune per segnalare la presenza del camion abbandonato. Proseguono intanto le indagini della Polizia di Stato, sul posto è già intervenuta la scientifica. Si cerca una banda specializzata in furti di questo genere. Ci auguriamo che queste indagini possano avere un esito positivo e di sicuro noi continueremo per quello che è possibile a mantenere alta la guardia sul controllo del territorio con i sistemi di videosorveglianza, che sono comunque uno strumento indispensabile. Certo, quando ti trovi di fronte a dei delinquenti professionisti, spesso e volentieri, purtroppo ci sono pochi mezzi che li possono contrastare.